Ben trovati, un appuntamento di viaggio in Molise sicuramente particolare perché il conduttore in questo caso è da studio e non è da solo. Siamo in procinto di collegarci con Sepino dove seguiremo un evento molto importante, un evento che ogni anno il 9 di gennaio porta tutta la popolazione, i fedeli, a rendere omaggio a Santa Cristina ma soprattutto a suonare le campane praticamente per tutta la notte. La notte delle campane, questo il titolo dell'evento, sono in realtà, normalmente sarebbero stati senza i distanziamenti imposti dal Covid e le regole ovviamente che vanno sempre rispettate, ricordiamolo, diversi giorni di appuntamenti, di festa che per la verità nel cuore di ogni sepinese, in ogni parte del mondo, sono comunque cominciate da qualche giorno e finiranno poi domani con la data di quella che doveva essere appunto l'ultima processione. Ma la notte delle campane rimane un momento importante con una messa solenne che seguiremo tra poco in diretta perché accomuna in un'anima sola, se così possiamo dire, la religione, il potere temporale, il potere civile, quindi diciamo anche il sindaco che prende parte attiva alla celebrazione e il popolo. È una questione che viene fatta per il popolo e dal popolo in omaggio a Santa Cristina. Tutto questo lo seguiremo in diretta, ovviamente da Sepino dove per noi c'è Barbara Afino che dovrebbe essere già collegata, chiedo conferma alla regia e se così appunto ci salutiamo. E in particolar modo volevo anche ricordarvi che ci potete seguire ovviamente su Tere Molise, quindi significa Facebook, significa YouTube per quanto riguarda le dirette social o comunque diciamo tramite internet in HD 24 su 24 ma anche 880 a Roma e ovviamente 11 del digitale terrestre in Molise come di consueto che è il nostro canale con cui vi teniamo compagnia tutti i giorni, ovviamente da più di 40 anni raccontandovi quello che accade in Molise. Io se la regia è d'accordo vorrei proprio cominciare riavvolgendo un attimo il nastro. Quest'anno il Covid ha impedito diverse manifestazioni, ha modificato delle altre manifestazioni. Noi siamo qui in diretta per anche dare la possibilità a tutti di seguire questa celebrazione, altrimenti la Chiesa sarebbe stata stracolma, ma non si può. L'ingresso è consentito a un numero predeterminato, scaglionato di fedeli, consentito appunto in base alle regole. Per questo noi siamo in diretta e in questo caso ringraziamo anche il parroco Don Antonio Lorenziale che lo ricordiamo crede molto nello strumento multimediale televisivo per raggiungere comunque tutti i fedeli che vorrebbero e che parteciperanno a questo evento. Ma volevo anche ricordare che molte cose non si sono potute fare, la cena della crianzola e poi anche le suonate, lo diremo nel corso della diretta, ci sono state alcune variazioni. Insomma tutto questo rappresenta comunque una voglia, un segno di continuità del Comitato Festa Santa Cristina in questo anno stranissimo, in questo anno 2021 che comincia anche con l'onda lunga ovviamente della pandemia e quindi del distanziamento sociale, ma noi riavvolgiamo il nastro. Partiamo proprio dal 10 di gennaio 2020, quando nel nostro telegiornale facevamo la cronaca di quello che era accaduto la sera prima, la notte precedente. Quindi vediamo appunto come ci siamo fermati praticamente un anno fa con una scaletta di quello che è successo proprio esattamente 365 giorni fa e che sarebbe stata poi la scaletta di svolgimento della festa in condizioni normali senza distanziamento sociale. Lo rivediamo insieme. E' una storia che risale al 6 gennaio 1099, rievocata anche nei martiri di Santa Cristina. In quella data le reliquie della Santa giunsero a Sepino per la mano di due pellegrini francesi dopo essere state trafugate nell'antica catacomba di Bolsena. Oggi quel ricordo viene celebrato con una festa solenne e un gemellaggio di cui ricorre il 25ennale proprio con la comunità di Bolsena che a Santa Cristina come patrona. E' sempre veramente una bella emozione ritornare a Sepino per festeggiare insieme alla comunità sepinese e alla nostra patrona Santa Cristina. Quest'anno è stata un'occasione veramente particolare perché ricorrono appunto i 25 anni dalla firma del gemellaggio tra le due comunità. 25 anni lunghi, 25 anni intensi che hanno fatto sì che le comunità potessero vivere momenti di culturali, momenti di scambi di idee, di esperienze. Questa sera abbiamo rinnovato questi patti e anzi ci siamo promessi di intensificarli in modo che le due comunità potessero vivere sotto la protezione della nostra Santa momenti emozionanti e di fede. La sera del 9 gennaio ogni anno un susseguirsi di momenti emozionanti. La consegna della candela del cartoccio in municipio ai bambini, simbolo di speranza. Le emozioni in questa occasione sono sempre tantissime. Quest'anno in modo particolare perché abbiamo avuto la ricorrenza del 25esimo del gemellaggio con la città di Bolsena e sicuramente le emozioni si raddoppiano. Sepino in questo periodo vive queste giornate di emozioni in maniera sentita. L'avete visto? Abbiamo visto stasera in chiesa una folla di persone, una folla di bambini in tempi nei quali i bambini cominciano veramente ad essere di numero esiguo. Poi la Santa Messa con le verginelle vestite di bianco, il sindaco che offre oro, incenso e mirra alla patrona, mentre al termine della solenne celebrazione presiduta quest'anno da Monsignor Palumbo, vescovo di Trivento, le campane suonano a distesa per tutta la notte. Vedo volti che sono pieni di tanta luce, sono pieni di tanta gioia, sono pieni di tanta speranza e tutto questo i sepinesi lo esprimono eloquentemente con il suono continuato delle campane, che è veramente un aspetto bellissimo. Le campane sono espressione di questa gioia, di questa speranza e nello stesso tempo sono anche rafforzamento di questa gioia, di questa speranza. C'è un rapporto di cause e di effetto. Gioia, nelle parole di Alessandra Mosca, presidente del Comitato Festa. La festa di Santa Cristina è una festa, soprattutto questa di gennaio, sul piano religioso molto sentita da tutti i sepinesi. È una festa che copre molti aspetti, è un'unione tra l'amministrazione, il religioso, il civile e la popolazione. Quindi è una festa concentrata in poche ore, ma che comprende tante sfaccettature. Bene, stiamo per concludere questa nostra anteprima della diretta da Sepino per Santa Cristina, la notte delle campane. Subito passiamo la linea alla regia per qualche istante di consigli commerciali. Al rientro saremo nuovamente con voi e da quel punto in poi seguiremo in diretta continuativa tutte le celebrazioni.